E sempre sulla questione rifiuti, ascoltiamo le parole di un cittadino che ci ha segnalato la problematica. Raccolta non raccolta, molti lamentano le strade sporche, lamentano giorni in cui non passa la raccolta, qui abbiamo un cittadino che si lamenta di questo. Qua noi stiamo in periferia di Alcamo e le dico subito che da 25 anni che abito qua non hanno mai pulito la strada, se lei guarda un attimo la strada, poi per quanto riguarda la spazzatura io non so a che attribuire la colpa ma io dico principalmente che la colpa sarà del sindaco perché lui è il primo cittadino di Alcamo in cui dovrebbe gestire questa cosa. Mi dispiace dirlo, per il sindaco sarebbe bene ogni tanto che faccia un giro nelle periferie, questa strada via Pento del Ricco non è stata mai pulita, perché il sindaco si assume le proprie responsabilità. Mi dispiace signor sindaco dirle questo, però lei ogni tanto giri, si mette a girare un po' per le strade e vede un po' quello che c'è, è vergognoso, noi paghiamo le tasse e purtroppo gli dico che la situazione è critica, allora lei dirò che forse si stava meglio quando si stava peggio.